Buongiorno e benvenuti sul video tutorial di MusicaJazz per imparare ad utilizzare la propria area utente. In primo luogo accediamo al sito ufficiale www.musicajazz.it ed accediamo alla nostra area riservata. Per farlo ci domanderà il nome utente oppure la mail e la password corrispondente. In questo caso ero già loggata quindi sono entrata automaticamente. Alla nostra sinistra abbiamo tutte le descrizioni della nostra area utente, quindi la bacheca che è una sorta di riassunto, il rinnovo per poter semplicemente rinnovare in maniera automatica e comoda il nostro abbonamento, tutti gli ordini che abbiamo effettuato fino ad ora da parte appunto di questo utente. Il nostro abbonamento e quindi anche la sua data di scadenza. Scarica rivista in pdf per poter accedere, leggere online e o scaricare quello che è la rivista in versione pdf di MusicaJazz dal 2016, dal gennaio 2016 fino al mese corrente. Ascolta album che ci permette invece di ascoltare tutti i brani in versione streaming, generalmente appunto allegati fisicamente come cd alla rivista cartacea. Il mio indirizzo per cambiare facilmente quello che è l'indirizzo dove spedire fisicamente il cd allegato e la rivista magazine del mese e per cambiare la nostra password, il nostro profilo, l'area dedicata. In primo luogo vediamo come poter ascoltare l'album, clicchiamo e clicchiamo nuovamente su vai alla pagina ascolta album, al cui interno troveremo tutti i cd che sono stati appunto fino ad ora caricati dei mesi appunto corrispondenti ai magazine pubblicati sopra. Clicchiamo quello che è il brano cd che desideriamo ascoltare, ci viene fatta una piccola presentazione per immagine, possiamo cliccare qualsiasi brano desideriamo o ascoltarli tutti e scaricare il libretto in pdf dello stesso. Vi sono anche degli articoli correlati che possono essere diciamo utili per poter ascoltare o documentarsi meglio su quel cd specifico. Invece per poter scaricare o leggere la rivista in pdf clicchiamo il tasto corrispondente. Accediamo così a questa schermata in cui in questo caso abbiamo ottobre 2020 in cima, non avremmo dovuto avere novembre ma presto lo sarà, al momento invece lo troviamo tutto in fondo dopo gennaio 2016 il primissimo mese che possiamo appunto leggere. cliccando un mese a caso diciamo giugno 2020 accediamo alla rivista di quel mese. Una volta caricato quello che è il magazine mensile di giugno 2020 possiamo leggerlo allargandolo quindi cliccando questa icona, diciamo gli angoli di un quadrato, sfogliandolo noi a mano, facendo uno zoom oppure lasciandolo in autoplay. Quindi in un certo senso si sfoglia da solo. Per uscire basta semplicemente cliccare questo tasto oppure il tasto esci sulla tastiera. Possiamo invece scaricare la rivista in versione pdf cliccando quest'icona a forma di foglio con l'orecchia piegata. Una volta cliccato infatti si presenta questa tipologia di schermata e in alto a destra troveremo questo simbolo universale per scaricare la rivista stessa. Ci permette di salvarlo rinominandolo o lasciandola come desideriamo. Questo è possibile solo ed esclusivamente per tutti i mesi, quindi da gennaio 2016 fino al mese precedente a quello corrente. In questo caso noi siamo in novembre, nel senso che essendo primo dicembre ancora non abbiamo caricato dicembre, ma novembre lo abbiamo caricato e lo troviamo senza l'icona per poterlo scaricare. Non appena verrà caricato dicembre lo stesso apparirà qui e sarà scaricabile, dicembre invece no. Sarà comunque sempre possibile leggerlo online, come mostrato prima. Questo è quanto. Qualora abbiate delle domande non esitate a farcele sapere, a comunicare con noi. Vi è anche una pagina aiuto, sempre all'interno dello stesso sito, dove potete trovare tutte le domande più frequenti e anche quello che sono tutte le mail ed i riferimenti diretti, qualora appunto abbiate delle domande in più da porci. Grazie della visione e arrivederci.